bene quindi buonasera di nuovo ringrazio la mia collega Silvia qui che ha gestito organizzato questo ciclo di incontri eh di formazione su vari temi eh tutti tesi in vari modi a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica eh all'interno di quest'azione di associazione pratica io sono Martina evangelista credo che forse con qualcuno di voi ci ci conosciamo già magari abbiamo già condiviso qualche formazione o altri tipi di interventi se vi va possiamo dircelo magari scrivete in chat o o anche accendete il microfono tanto in questa primissima fase eh siamo ancora in una fase informale così di saluto eh così mi aiuta anche a capire se abbiamo già fatto delle cose insieme se avete già seguito altri corsi di questo ciclo di appuntamenti eh mi risulta dai nostri moduli che qualcuno di voi si abbia già seguito altri appuntamenti ma come immaginerete mh dai vostri nomi che vedo qui ora faccio fatica a collegare eh chi conosco o no eh perché al momento io non vedo volti a ecco sì qualcuno ma pochini e poi insomma è difficile ricordarsi tutti i nomi e in alcuni casi poi non c'è nemmeno proprio il nome completo quindi per me è un po' difficile ma non vi sentite eh non dovete per forza accendere la telecamera solo se potete o o se vi va insomma so bene che il pomeriggio eh chi segue il corso magari mentre sta con la famiglia o mentre si sposta quindi non non vi preoccupate assolutamente di di accendere la telecamera quindi io inizierei così due minuti con un informale come va come state e anche se ci conosciamo già eh intanto vi dico che io sono collegata da Pisa e qui fa molto freddo eh c'è un vento forte e bello bello freddo non so dalle vostre parti come sia il tempo oggi e in generale come va io sono malata e quindi non so se fuori può essere vedo un solucino ma non non so se fa caldo o no eh mi dispiace per i malanni in effetti anche qui ne girano parecchi e continuativi ah ecco Beatrice dalla bellissima Cortona eh e immagino anche freddissima se decide di essere fredda Cortona ehm ecco San Giovanni sole però freschino eh grazie grazie Giovanni mi risulta anche che eh oggi siamo un gruppo bello eterogeneo nel senso che mi risulta che ci siano insegnanti di infanzia primaria secondaria di primo e secondo grado però poi fra chi si iscrive chi effettivamente viene non è mai eh la stessa cosa quindi non so se eh vi volete palesare se ci siete insegnanti della scuola dell'infanzia poi lo chiederò anche agli altri eh giusto per sapere com'è composto il gruppo ci sono insegnanti della scuola dell'infanzia volendo potete o alzare la mano con la reazione de dello zoom o aprire il microfono scrivere in chat alzare la mano come come vi torna meglio no infanzia mi sa non pervenuta primaria invece vabbè abbiamo Cristina sicuramente sostegno alla primaria poi abbiamo altri insegnanti della primaria tra i presenti ok Antonella e anche Simona anch'io anch'io Pia Pia capito bene Lucia Lucia oddio abbia pazienza Lucia e poi secondaria di primo grado ecco Sabrina e poi anche immagino altri quindi Maria Antonietta Serena Nadia Stefano ok e poi giusto così per renderci un po' conto secondaria di secondo grado Giovanni e vediamo vediamo Nadia Elisa Giulia Beatrice Ilaria eccetera eccetera ok un bel po' ok quindi bene siamo comunque un gruppo eterogeno forse manca la scuola dell'infanzia ma ma va bene eh sempre per rispondere un pochino anch'io al come va informale ehm ero poco fino a poco fa virtualmente in Piemonte eh facevamo un corso per i referenti eh delle biblioteche scolastiche e per rimanere invece in linea con quello che facciamo oggi con voi perché oggi con voi ragioniamo di didattica orientativa eh domani sera prenderò un aereo per Palermo meteo permettendo perché a Palermo sono già due volte che andiamo perché tutti i referenti dell'orientamento dell'ufficio scolastico regionale siciliano stanno facendo proprio un corso sulla didattica orientativa eh perché ve l'ho voluto dire per dirvi che eh questo tema è un tema condiviso no? Quindi quello su cui vi state così impegnando è qualcosa che non riguarda insomma solo voi eh non è una vostra pazza idea ma è sicuramente eh qualcosa di di condiviso condiviso anche a livello di linee guida ministeriali e ovviamente indispensabile perché sia una didattica tesa anche al successo scolastico e formativo di tutte le ragazze tutti i ragazzi e e di ciascuno di loro e quindi che possa prevenire eh la questo stranissimo e diffuso fenomeno della dispersione scolastica. A questo punto iniziamo la parte invece meno informale io farei così noi abbiamo eh un tempo fino alle diciannove eh come spesso faccio anche se non so se ci conosciamo già eh mi piacerebbe avviare eh il nostro incontro con alcuni stimoli eh che ci possano servire mh a connetterci non tanto con internet ma a connettere delle idee anche delle idee eh eterogenee e in particolare questi stimoli eh li ricercherò in dei libri in delle storie eh perché li cercherò in dei libri e delle storie eh beh perché le storie eh hanno eh la capacità di inserirci in delle situazioni altre rispetto a quelle in cui siamo e quindi di attivarci delle idee eh perché le storie nei libri fanno questo in maniera più partecipata eh intendo dire che le storie che sono anche nei film no e anche nei video per esempio eh io per esempio sono una grande amante di cinema eh però eh quando noi vediamo un film siamo un pochino più eh in ricezione quando invece noi ascoltiamo una storia poiché le storie scritte per loro natura non non raccontano mai davvero tutto quello che accade anche perché altrimenti i libri eh sarebbero dei dei volumi immensi se dovessero descrivere ogni singola conseguenzialità di ogni azione le storie ci richiedono un'attivazione proprio cognitiva emotiva eh empatica e e anche insomma di di altro tipo e fanno sì che noi si debba in qualche modo pensarci dentro per fare le nostre ci sarebbero anche altri attivatori potremmo andare insieme a fare una gita un'esperienza ehm potremmo costruire qualcosa insieme ma chiaramente eh i libri hanno la capacità di essere anche molto economici mh e ho usato le virgolette perché non intendo economico solo in termini proprio di soldi ma perché insomma avere un libro a disposizione e metterlo in condivisione con un gruppo di persone è sicuramente più leggero che fare una gita di gruppo insomma eh non che una gita di gruppo sia una brutta cosa ma magari eh se ne possono fare meno quindi io vorrei iniziare con degli stimoli narrativi eh poi mi piacerebbe che ci confrontassimo eh in un clima di assenza di giudizio naturalmente come si fa sempre anche in classe eh a partire da alcuni stimoli quindi condividendo quelli che sono i nostri vissuti i nostri saperi progressi e poi eh eh ho preparato anche delle slide che ovviamente vi faremo avere e e mi piacerebbe insomma ragionare un po' su cosa significa insegnare e orientare insegnare orientando tutto questo interrompetemi quando volete quindi scrivete in chat accendete il microfono insomma se avete delle domande questioni commenti precisazioni fateli fateli quando volete detto questo se ci sono subito delle piccole domande o delle questioni rispondo se no inizio con questa carrellata di stimoli narrativi non mi sembra che ci siano e allora io parto e vi dico già che eh ho scelto quattro assaggi di quattro libri molto diversi da loro eh tra loro eh in più o meno in ottica progressiva per età quindi non vi spaventate insegnanti delle secondarie di secondo grado inizierò con cose che fanno riferimento a un immaginario più piccino per poi progressivamente salire ci diremmo anche probabilmente che non sempre ciò che fa riferimento a un immaginario piccino non può in realtà interessare anche i grandi o interessare grandi questioni ma questo lo lo vedremo semmai dopo quindi inizio con qualche capitoletto da Murdo il libro dei sogni impossibili che è un albo illustrato eh pubblicato eh dall'Ippocampo un paio di anni fa è stato molto premiato giustamente secondo me dicono tutti che gli eti non esistono eppure eccomi qui mi chiamo Murdo sono uno eti insistono che gli eti esistono solo nelle storie nelle leggende tra le pagine dei libri e allora ecco la prima cosa impossibile che ho sempre sognato di fare esistere fuori da un libro vivere su montagne che non siano di carta ho sempre sognato di nascondermi in una scarpa ma sono troppo grosso per nascondere uno eti grosso come me ci vorrebbe la scarpa di un gigante ho sempre sognato di incontrare un gigante per giocarci a nascondino e i piccolo yeti mi direbbe mio piccolo yeti dove sei e io non farei nessun rumore in fondo alla scarpa lascerei che il mio gigante mi cercasse ho sempre sognato di attraversare uno specchio magari al mattino allora di lavarsi resterei dietro lo specchio aspetterei che qualcuno si mettesse lì davanti vedrebbe la mia faccia credendo di guardare la sua si metterebbe a urlare aiuto sembrano noieti dietro lo specchio io riderei moltissimo ho sempre sognato di farmi un maglione con le parole di una poesia ogni parola sarebbe un filo di lana un gomitolo di parole per riscaldarmi sarebbe una poesia con parole semplicissime e con qualcuna più misteriosa quella con parole che pizzicano sulla pelle e altre che ti impediscono di chiudere gli occhi sarebbe una poesia che mi infilo poco prima che sia notte una poesia che non mi tolgo più guardando le stelle cadenti forse sarà una poesia d'amore allora saremo in due a infilarci dentro ho sempre sognato di condividere un maglione con qualcuno nel mio nome murdo ci sono due montagne la m un ferro di cavallo la u un quarto di luna la d un pallone la o o la r non so cosa farci ma non posso neanche non farci niente non ho nessuna voglia di chiamarmi mudo anche se capovolta la r non mi fa venire in mente niente stesa sembra un po una lumaca un guscio e due antenne una lumaca stretta tra un ferro di cavallo la u e un quarto di luna la d una lumaca che non sa cosa vuole ho sempre sognato di giocare a pallone sulla luna pensa la lumaca guardando davanti a sé poi però guarda indietro ho sempre sognato di andare a cavallo in montagna pensa ancora e alla fine la lumaca non fa niente resta in mezzo al mio nome in equilibrio sulle antenne alla fine è una lumaca che somiglia a una lettera dell'alfabeto e ora l'ultimo pezzettino di murdo per oggi ho sempre sognato di farmi un panino con tutto tutto quello che mi piace pecorino e prezzemolo qualche fettina di salame di cetriolo qualche spicchio di pomodoro e anche un nuovo sodo peperoncini dolci briciole di granchio qualche gamberetto una dozzina di acciughe mirtilli freschi fichi secchi finocchio fiori di zucca radice di zenzero semi di cumino un filo d'olio d'oliva sciroppo d'agave salsa piccante e poi un fiume un laghetto decine di sentieri due o tre montagne un minuto di silenzio qualche fiocco di neve una manciata di sassolini un mazzo di fiori di campo un vecchio aereo una foresta un panino così lo mangerei senza pensare a niente ecco ho terminato l'assaggio della prima di quattro letture e dopo vi chiederò non subito cosa ne pensate però intanto vi vorrei ehm chiedere eh di fare un piccolo gioco che chiedo a voi perché siete insegnanti non non lo chiederei probabilmente a dei ragazzi ma voi sì vi chiederei di eh fissare eh durante queste letture se ci sono delle cose quindi delle immagini delle parole delle idee che vi vengono che secondo voi possono avere a che fare col discorso dell'insegnare orientando della didattica orientativa cioè di quando io con la mia disciplina con gli apprendimenti della mia disciplina aiuto le studentesse e gli studenti a conoscersi meglio e quindi a sviluppare delle competenze di autoorientamento e di dare senso a quello che stanno apprendendo un senso legato anche alla propria vita eh di qui e di ora quindi più o meno il gioco è abbastanza chiaro la consegna ok eh nella prima lettura non lo sapevate quindi magari vi do trenta secondi per ripensare un momento a quello che avete ascoltato e se vi volete proprio appuntare un'immagine una parola un'idea che vi può essere prevenuta rispetto a questo libro che è Murdo il libro dei sogni impossibili noi abbiamo letto quattro cinque dei suoi sessanta sogni impossibili e vi ricordo che il primo era quello di esistere fuori da un libro eh il secondo era quello di nascondersi in una scarpa il terzo quello di passare attraverso uno specchio il quinto quello di farsi un maglione con le parole di una poesia e poi c'era eh quello delle lettere del suo nome che diventano in qualche modo eh così dei dei personaggi di una storia che lui si inventa e poi il panino con tutto quindi questa è la prima assaggio di storia che abbiamo ascoltato adesso eh vi voglio leggere un altro assaggio e vi ricordo questo piccola consegna che vi ho dato cioè mentre ascoltate se intercettate delle parole o delle immagini che vi sembrano utili a ragionare sulla didattica orientativa fissatele in qualche modo allora questo è un libro eh pubblicato da Raum eh un anno circa fa è un albo illustrato particolare perché ancora più di altri albi illustrati secondo me a molti livelli di lettura e si intitola Atlante dei viaggi minimi di Giuseppe Sofo ve ne leggerò eh solo alcuni e inizio vabbè mostrandovi eh la la copertina interna e poi eh vi leggo l'introduzione e poi vi leggo alcuni di questi viaggi le persone hanno sempre tracciato in qualche modo i propri percorsi per ritrovare la strada o per scoprire il mondo che le circondava unendo le stelle come fossero puntini di un disegno e disegnando mappe e cartine per orientarsi e più conoscevamo il mondo più aumentava il bisogno di atlanti e guide che potessero aiutarci a esplorarlo che fosse per necessità o per piacere ci sono viaggi però in cui nessuno ha mai pensato di accompagnarci e territori che nessuno ha mai deciso di mappare spostamenti minimi quasi da fermi ma che sono spesso i più difficili da affrontare perché il cammino da compiere è soprattutto nella nostra mente come avvicinare le nostre mani a quelle della persona che abbiamo scoperto di amare come scoprire un universo intero senza muoverci di un millimetro come districarci nel labirinto del cervello di un'altra persona quando si arrabbia questo atlante dei viaggi minimi è stato pensato per guidarci in queste e tante altre piccole avventure che viviamo ogni giorno ricordando però sempre che nessun viaggio ci insegnerà nulla se non ci apriremo alla possibilità di perdere questo è l'indice del libro ve lo faccio vedere vedete che è fatto proprio come una mappa e questi sono i viaggi che vengono mappati e io ve ne leggerò solo alcuni ma l'indice ve lo leggo tutto i viaggi sono la navigazione della vasca da bagno la traversata dal divano letto scusate la traversata dal divano al letto dopo aver visto un film percorso di orientamento nella cameretta odissea nell'aeroporto spedizione al ristorante con gli amici viaggio nella fantasia labirinto del cervello di un adulto arrabbiato ritrovamento dell'ultimo gelato nel congelatore avvicinamento della tua mano alla mano della persona di cui ti sei innamorato ricerca degli occhiali senza occhiali itinerario dello sguardo da interrogazione a sorpresa avventura della fila al supermercato volo del calzino esplorazione minima dell'universo inizio leggendo l'avvicinamento della tua mano alla mano della persona di cui ti sei innamorato uno assicurati che non abbia una paura folle di qualsiasi contatto umano meno uno scusate zero trova il momento e la situazione più adatto uno trova il modo di trovarti al fianco dell'altra persona due assicurati che le tue mani non siano sudate tre assicurati che le tue mani non siano sporche di cioccolata quattro controlla se l'altra persona è mancina cinque assicurati che non ci sia nessun altro o che a nessuno importi di ciò che fate sei assicurati che nessuno dei due abbia qualcosa tra le mani sette sorridi all'altra persona e aspetta che ti sorrida otto rilassati sì rilassati nove guarda altrove respira dieci vai possibili risultati a risponde al tuo tocco sfiorando le tue dita bene b ti guarda come se volesse farti rinchiudere in manicomio fai finta di aver toccato la sua mano solo per spostare una zanzara c finge di non aver capito aspetta cinque minuti e poi ricomincia dal punto zero adesso vi leggo il percorso di orientamento nella cameretta per poter navigare al meglio all'interno della propria cameretta è necessario conoscere alcune caratteristiche tipiche della geografia domestica il tuo poster preferito è esattamente nel punto in cui ti cade lo sguardo appena apri gli occhi la mattina i giochi sono sistemati in un preciso ordine che va da questo è mio non lo tocca nessuno a questo è da bambini piccoli non ci gioco più l'interruttore della luce è sempre raggiungibile dal letto in modo da tenere lontano qualsiasi mostro decida di farti visita i vestiti puliti si trovano all'incirca a metà della pila di panni sporchi sulla sedia di fianco al letto lo zaino con i libri si trova esattamente tra il letto e la porta in modo da inciamparci sopra e non dimenticarlo quando vai a scuola volo del calzino secondo la legge gravitazionale della mamma di newton il calzino non potrebbe volare in base alle sue dimensioni al suo peso ma lui questo non lo sa e quindi vola per calcolare il punto d'atterraggio bisogna avere i seguenti dati a disposizione altezza di chi ha lanciato il calzino distanza tra la porta d'ingresso e la doccia eventuale presenza di sedi o divani su cui potrebbe finire il calzino una volta lanciato distanza tra la porta d'ingresso il punto in cui si tolgono le scarte eventuale presenza di gatti rossi o cani neri in giro per la casa labirinto nel cervello di un adulto arrabbiato il cervello degli adulti quando sono arrabbiati si trasforma in un labirinto inestricabile conoscere i punti chiave del tragitto può però aiutare a percorrerlo per trovare la via d'uscita calle dei buoni consigli vicolo del perdono vortice della paura di sbagliare piazza del te l'avevo detto cascata dei sensi di colpa rotonda di quante volte te lo devo dire largo del un giorno capirai viale del ho ragione io montagna dei problemi di lavoro bene e avete ascoltato anche alcuni eh viaggi minimi di questo atlante eh vi ricordo il nostro gioco quindi stiamo ascoltando delle storie come stimolo per poi lavorare insieme su un argomento specifico che è la didattica orientativa il gioco è oltre a ascoltare poi dirci se ci sono piaciute o no è anche quello di rintracciare eventuali immagini eh parole temi contenuti che sono utili poi al nostro ragionamento vado con la terza lettura di quattro ve lo ricordo le letture saranno quattro questa volta vi leggo alcune pagine da i numeri felici di Susanna Mattiangeli pubblicato da Vambere Edizioni pochi anni fa quindi ho cercato di leggervi tutte cose abbastanza nuove sì insomma cinque anni fa siamo nel duemiladiciassette vedete già dal formato che siamo passati dagli albi illustrati a a una a una sorta di romanzo autobiografico o diario eh un libro molto particolare e e ve ne leggerò eh giusto due o tre pagine da dall'inizio di questo diario di questa ragazzina undici numero primo molto dispari molto appuntito se lo leggi da destra a sinistra resta sempre undici ma se lo metti davanti a giugno diventa un giorno di vacanza io sono Tina e lo sono sempre stata anche se può capitare a tutti di distrarsi e diventare anche una regina del mare una tigre una spia o anche solo un albero o un gabbiano comunque sì la maggior parte delle volte sono proprio io mai una volta che sia stata per dire Jamal il pescivendo lo Simoncino della terza e o la signora scassa della porta di fronte ci ho provato ma non mi è riuscito davvero adesso che la scuola è finita ho tempo per il mio diario dei numeri finalmente perché nella mia vita ci sono dei numeri che meritano di essere raccontati anche se non so dire quali siano più importanti e quali meno perciò comincio così mi viene e vado avanti per un po' almeno finché resto in città 10 tutti dicono accidenti 10 anni e infatti non è una cosa che fai così nei ritagli di tempo io per esempio ci ho messo 3652 giorni fitti fitti a compiere 10 anni perciò sì accidenti 3652 giorni il 2 alla fine è per i due anni bisestili che ci sono in mezzo il 10 è un numero felice sul serio io queste cose le so un po' funziona così tu prendi un numero per esempio il 10 appunto poi moltiplichi ogni cifra per se stesse viene 1 per 1 uguale 1 0 per 0 uguale 0 dopo fai la somma di ogni risultato e se alla fine ti rimane 1 allora quel numero per motivi suoi è felice e si vede subito che il 10 è felice ma proprio tanto felice senza stare troppo a fare i conti per gli altri numeri ci si mette di più a scoprire se sono felici ma funziona allo stesso modo non so perché si chiamano così questi numeri ma quelli che studiano la matematica li conoscono da tanto tempo me l'ha raccontato papà ogni tanto ne trovano uno nuovo però anche se li cercano con i calcolatori non li possono trovare tutti perché i numeri felici sono infiniti come tutti gli altri infiniti papà se ne intende il suo lavoro ogni volta che parliamo di qualcosa non tanto spesso in realtà perché abita lontano si finisce con la matematica che come dice lui è utile in ogni momento della vita io chiedo ma come fanno essere infiniti questi numeri felici se sono meno degli altri se ne trovi solo uno ogni tanto e papà mi dice che se una cosa è infinita sono infinite anche tutte le sue parti ogni volta che ci ripenso mi perdo di nuovo eppure è così i numeri felici sono sparsi uno qui e uno lì in mezzo a tutti gli altri e non finiscono mai comunque se un numero è infelice niente da fare ti puoi inventare quello che vuoi ma non c'è verso rimane infelice con la gente questa cosa della felicità funziona in modo diverso voglio dire dipende dai giorni e dal cioccolato che c'è in casa numero magico sa fare un sacco di cose che papà mi spiega e io dimentico tutte le volte comunque la tabellina del nove l'ha imparata anche Carla la mia amica e questa è già una bella magia riassunto delle mie feste di compleanno primo compleanno non ricordo c'è una foto in cui dormivo secondo compleanno boh terzo compleanno candeline da soffiare difficile cappellini trombette quarto compleanno bicicletta battuto il mento contro un muretto sangue quinto compleanno varicella sesto compleanno festa con altri tre compagni di classe soffiato sulla torta sbagliata settimo compleanno bombe d'acqua qualche mamma inzuppata ottavo compleanno gavettone sul tavolo dei dolci spento le candeline sulle fette di cocomero nono compleanno proibiti i giochi d'acqua caccia al tesoro divertente alla decima fetta manca poco e spero che fili tutto liscio perché con questa cosa del numero felice bisogna che tutto sia perfetto anche se non so bene come fare la pennellonna sì lei fa le feste molto precise con i minuti tutti in fila e i giochi che iniziano e finiscono in tempo la torta al momento giusto e poi si va a casa la pennellona è una tipa alta di classe mia precisa come le sue feste con i vestiti sempre puliti i capelli sempre pettinati dal parrucchiere l'astuccio in ordine una che fa le cose tutte dritte a me le feste vengono molto più svilenche non saprei dire perché forse non posso fare una festa e allo stesso tempo vedere se sta venendo dritta non ci riesco è una delle cose che non so fare bene io vi ringrazio per l'ascolto e vado con l'ultima lettura eh vi ricordo il nostro gioco mentre ascoltate se intercettate immagini o parole o idee che possano essere utili per il nostro discorso sulla diattica orientativa appuntatele ultimo libro Gaia Guasti che è eh in Italia un'autrice che scrive libri molto belli per le secondarie premiata anche in particolare questo libro pubblicato da Camelo Zampa nel duemiladiciassette vedete che ha un formato molto particolare è esattamente il formato di una lettera perché questo è un racconto epistolare sono sette lettere eh che scrive uno studente eh qualcuno ha addirittura detto insomma cinquant'anni da lettera a una professoressa eh insomma arrivano queste lettere io ve ne leggo solo due caro ministro della pubblica istruzione durante i tre giorni di sospensione da scuola che ho passato davanti alla televisione ho visto un numero incalcolabile di telefilm di videoclip di pubblicità e di trasmissioni idiote e poi magia dello zapping mi sono imbattuto in un suo intervento mentre difendeva con passione la sua idea di riforma della scuola non ho cambiato subito canale perché ho notato che le tremmavano le mani mi ha colpito forse era l'emozione del fedele servitore dello stato forse era semplicemente un po' stressato come succede a me davanti a un esercizio di analisi logica allora per la prima volta ho ascoltato quello che aveva da dire ho avuto l'impressione che nella sua riforma parlasse sempre di me mi chiamava gentilmente allievo con grandi difficoltà di apprendimento e a sentire lei si preoccupava moltissimo del mio futuro ma che erano balle l'ho capito in due secondi e non soltanto perché all'uscita di scuola un giorno sì un giorno no ci sono dei genitori infuriati che distribuiscono volantini e anche se la lettura non è il mio forte gli slogan abbasso la riduzione dei finanziamenti e no alla rovina della scuola pubblica anch'io riesco a leggerli e si figuri che so pure quello che vogliono dire no l'ho capito perché dall'elementare in poi a parte l'anno di terza quando ho avuto la fortuna di avere la maestra Caterina a scuola ho sempre visto un sacco di problemi lo sa nel mio quartiere non ero l'unico bambino in difficoltà di quelli che non riescono neanche a imparare a leggere eravamo in tanti e mentre noi ci perdevamo alla cattedra vedevamo il balletto dei supplenti tutti i maestri che avevano voglia di andarsi nel prima possibile in una scuola migliore della nostra quelli che restavano avevano spesso lo sguardo del professor Taddi e la colpa per quello sguardo signor ministro ho idea che sia anche sua e di tutti quelli che sono venuti prima di lei sono cresciuto così avvertendo sulla faccia degli adulti la minaccia di una catastrofe annunciata lei crede forse che i bambini non si rendano conto di queste cose ma si sbaglia le sensazioni sono le prime cose che percepiscono le capiscono molto meglio della matematica la nave affondava lo sapevamo tutti e io sono affogato per primo oggi so benissimo che rompo le scatole al mondo intero nessuno sa più cosa fare di me sono un peso una palla al piede l'alunno che tutti sperano di non avere nella propria scuola e ancora meno nella propria classe se si potesse cancellare la mia esistenza con una gomma sarebbe un gran vantaggio per tutti riconosco che i professori hanno le loro ragioni ma lei lo sa cosa vuol dire quando per anni dalla mattina alla sera ci si sente uno stupido senza cervello ci provi lei a mantenere la motivazione dopo a restare calmo e tranquillo ad annoiarsi senza farlo vedere a prendere bruttissimi voti in tutte le materie a ringraziare comunque educatamente capirà cosa voglio dire allora che un ministro adesso venga a raccontarmi che sono al centro di ogni sua preoccupazione e che da ora in poi le cose cambieranno spiacente ma non ci credo bisognava pensarci prima e poi per finire scusate salto in avanti scrive una lettera alla sua sorellina dove gli parla anche di quella brava maestra che aveva incontrato cara scricciolo ranocchietta mia buffa capretta a due zampe smetti di saltellare ovunque e ascoltami con attenzione ascolta il tuo fratello maggiore non fare come me non fare gli stessi errori applicati a scuola mettici della buona volontà e quando non capisci alza la mano e non avere paura di chiedere sicuramente penserai che ho una bella faccia tosta a dirti queste cose ma vedi scricciolo non so neanche come ci sono arrivato a questo punto quando è che ho cominciato a capire meno le spiegazioni e poi quasi da un giorno a un altro a non capirci proprio più nulla all'inizio era un po' faticoso seguire quello che diceva la maestra scrivere fare bene gli esercizi e poi ad un tratto è diventato impossibile tutto era sfocato non captavo non sapevo neanche che cosa volevano che facessi allora non ho fatto più niente e ora passo il tempo a immaginare le lettere che sono incapace di scrivere mi piacerebbe farlo davvero ma mi mancano le parole non so esprimere quello che sento le frasi mi si mescolano nella mente e restano là a girare su se stesse e mi fanno male mi graffiano all'interno del cranio e ho tanta paura che sia troppo tardi è troppo tardi scricciolo cosa succederà se per tutta la vita non riuscissi a trovare le parole di cui avrei bisogno per dire le cose mi rimarranno nella testa a girare in tondo e a farmi impazzire lo so è anche colpa mia avrei potuto fare uno sforzo non ci sono riuscito ma non ci sono solo cattivi studenti ci sono anche cattivi genitori cattivi compagni cattivi professori cattivi presidi e cattivi ministri per fortuna ci sono anche dolci ranocchiette e brave maestre e poi scrive alla maestra caterina cara caterina scusami tanto per gli errori ma ti volevo dire una cosa e questa volta la lettera ho deciso di scriverla per davvero non solo di girarmela in testa e pazienza per gli sbagli mica saranno i primi al mondo e neanche gli ultimi no mi hai chiesto se a scuola va tutto bene in realtà a scuola non va tanto bene ho bisogno di un po' di aiuto mi può aiutare grazie firmato m ecco qua io vi ringrazio per l'ascolto eh abbiamo viaggiato su quattro storie molto diverse siamo passati da uno yeti a un atlante a un diario numerico a delle lettere di un eh drop out sostanzialmente un ragazzo fuoriuscito dalla scuola a questo punto vi vorrei chiedere come avevamo detto in assenza di giudizio da parte mia e da parte del gruppo eh com'è stato per voi ascoltarle eh se qualcuna vi è piaciuta cosa vi è piaciuto o in generale vostri commenti e poi anche se avete intercettato delle immagini delle parole dei temi che secondo voi ci interessano per ragionare sulla didattica orientativa grazie a voi la parola buonasera sono Cinzia e volevo fare una riflessione rispetto a queste letture che mi sono sembrate molto interessanti soprattutto l'atlante dei viaggi minimi è veramente una una scoperta molto interessante e credo mi mi sembra di intuire che ci sia comunque un un argomento di fondo che unisce tutte tutte queste quattro letture l'idea che chi parla a livello ovviamente rispetto anche a al pubblico al quale si rivolge quindi insomma dall'età più piccola ai ragazzi più grandi ha comunque di base molta consapevolezza cioè sta stanno parlando eh soggetti persone personaggi consapevoli consapevoli della di se stessi quindi anche il il viaggio minimo dal eh trattato è comunque un viaggio di consapevolezza perché poi dice veramente rispetto anche al discorso di dare la mano alla persona con cui ci siamo innamorati che ci piace è veramente tutti quei passaggi penso che sono passaggi nella testa un po' di tutti noi e quindi mi sembra che il il filo che li collega sia un po' la consapevolezza di questi personaggi che sanno indagarsi parecchio bene in fondo dentro se stessi grazie Cinzia questo è il suo così filo di di lettura eh molto molto interessante eh allora io riprenderei le sue parole traducendole in parole mie ma il significato penso più o meno sia quello in qualche modo le storie danno voce mh eh danno voce alle figure che le abitano quindi sia esso noieti o uno studente di quelli somari eh però in qualche modo emerge la la loro voce grazie grazie Cinzia curiosa di sentire altri commenti magari anche totalmente diversi vi invito se volete essere anche molto concreti puntuali semplici bassi non occorre eh necessariamente filosofeggiare se volete citare anche qualcosa di molto molto specifico va benissimo lo stesso anzi buonasera buonasera Antonella sì io eh insegno matematica nella primaria e i numeri felici il libro numero di numeri felici mi è piaciuto tantissimo eh penso anche di eh utilizzarlo eh sempre nell'idea di rendere eh la eh matematica eh allegra e fruibile per tutti quindi eh come momento eh introduttivo anche per altre eh attività quindi ho trovato molto molto eh interessante e molto bello grazie grazie Antonella ecco Antonella eh e Giovanni eh due commenti simili no eh hanno proprio intercettato come dicevo anche in maniera molto puntuale concreta ma va benissimo il mio gioco voleva arrivare anche a questo il fatto che per esempio una lettura come questo che è un diario di una ragazzina tra l'altro in transizione tra la primaria e la secondaria di fatto all'estate delle medie diciamo così eh può eh aiutare come dice Giovanni come ha detto anche Antonella a avvicinare i ragazzi ai numeri i numeri no? Questa cosa che tra l'altro particolarmente in Italia genera a volte distanza una distanza che può essere paura o che può essere evitamento una distanza che talvolta anche una distanza di genere eh o comunque in generale una distanza da tutto quel mondo che noi crediamo sia il mondo delle emozioni il mondo dell'umano il mondo della creatività il mondo dell'espressività e invece questo libro eh sdogana completamente questo perché è un diario intimo un diario segreto la ragazzina parla di sé attraverso i numeri e inserisce anche dei concetti matematici scusate mi sono alla porta ma intanto vi ascolto sì prego sì ho risolto scusate eh volentieri ascolto qualche altro commento curiosa se anche Giovanni è un insegnante di matematica come Antonella sono curiosa di questo e e e ovviamente come molti di voi avranno capito eh questi libri non sono stati scelti a caso insomma no? Prego intanto se qualcun altro vuole parlare allora io ti volevo ringraziare per questi libri che ci proponi perché per per me è la prima volta che li li conosco non le non li conoscevo perché ho un un grande uso del libro prima di affrontare un argomento cerco gli spunti insomma a secondo della disciplina però da ex insegnante dell'infanzia avrei scelto Murdo per l'infanzia perché c'è un po' tutto dentro emozioni avvicinamento al codice simbolico della scrittura eh quando dice le montagne eccetera dove ci ripete il nome quindi per l'infanzia avrei scelto come lettura Murdo che insomma tocca un po' tanti argomenti anche col panino si poteva affrontare la l'argomento dell'alimentazione insomma c'è tante eh vie di uscita insomma facendo quella lettura e per l'infanzia per la primaria siccome eh io è di recente che sono passata alla primaria e l'anno scorso ho fatto la prima e e ho matematica in prima prima primaria e avrei scelto questo ho usato Babel come introduzione ai numeri la storia delle pecore insomma ora non mi ricordo bene il titolo comunque quello era fantastico per rintrodurre eh la decina e questo numeri felici se l'avessi saputo avrei scelto questo insomma non lo conoscevo eh quindi sono due libri molto interessanti quindi grazie per avermi riproposti grazie grazie a voi e intanto accorgiamoci di cosa sta succedendo no eh da insegnante di scienze naturali della secondaria secondo grado a insegnanti di scuola dell'infanzia ora primaria ma insomma ci stiamo dicendo cose simili chiaro su contenuti e livelli obiettivi diversi ma ci stiamo dicendo guarda che con un libro tu puoi introdurre un argomento in particolare state fortunatamente essendo voi un gruppo eterogeneo citando libri diversi ora è stato citato murdo eh che non a caso avevo scelto anche e sottolineo anche perché fa un libro bellissimo con tantissimi livelli di lettura ma per questo gioco che fa con le lettere no e e poi c'è anche il panino che mi interessa moltissimo eh e qui devo dire io non avevo pensato al tema dell'alimentazione ma grazie per averlo citato perché in realtà eh ci sta assolutamente eh e quindi grazie io sentirei qualche altro commento e poi eventualmente vi introduco una seconda domanda stimolo grazie a tutti ok allora visto che siete timide timidi introduco la seconda domanda allora a parte una battuta via abbiamo citato tre libri ne manca uno citiamo anche l'altro no va bene scherzo ma la seconda domanda è per ora eh molti di voi hanno si sono concentrati giustamente perché il mio gancio era stato quello eh su come i libri possono essere degli attivatori di eh di lezione sostanzialmente per quindi conseguire degli apprendimenti lavorare su delle abilità su delle competenze trattare dei contenuti eh creare un clima e eccetera noi quindi abbiamo parlato di di avvicinamento alla scrittura abbiamo parlato di numeri di matematica ehm sull'Atlante aspetta che mi sfugge cosa aveva detto eh ah sì il discorso poi della voce della consapevolezza eccetera eccetera eh la fruibilità all'allegria eccetera eccetera quindi finora abbiamo parlato di didattica più che altro in realtà e in che modo però queste storie mica solo queste eh oggi voleva essere un esempio uno stimolo anzi voleva essere un invito a dirvi guardate che se frugate bene di attivatori come questi ne trovate mille soprattutto poi ciascuno nella propria disciplina essendo chiaramente più esperto e vicino alla propria disciplina ma in che modo queste storie oltre a essere adatte a un discorso didattico possono possono anche essere adatte a degli obiettivi orientativi sempre legati alla didattica questa forse è la domanda più difficile eh perché sicuramente credo siete più esperti di didattica che di orientamento eh però più tardi eh formalizzeremo anche un pochino l'aspetto dell'orientamento però intanto sentiamo un po' cosa avete da dire su questo ecco io volevo sapere cosa intendi per l'orientamento perché io ho scelto questo corso proprio per farmelo spiegare no 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 va benissimo va benissimo allora non mi è chiaro ammetto la mia ignoranza grazie per la la domanda e rispondo eh anzi guardo se nelle slide che avrei condiviso dopo eh trovo già anche una eh ecco trovo questa dimensione perfetta la condivido anche le slide dunque allora il tipo di orientamento di cui parliamo oggi e e quando parliamo di didattica orientativa e poi anche assolutamente in linea con quelle che ormai sono sia le linee guida regionali ma anche ormai quelle ministeriali con il nuovo decreto del dicembre duemilaventidue quindi insomma di due mesi qua eh parliamo di un orientamento formativo mh quindi intanto di un un orientamento inteso come un processo non più come un momento molti di noi eh e poi ditemelo però cioè confrontiamoci no ma erano abituati sono abituati a vivere l'orientamento più che altro come un momento collocato diciamola alla vecchia maniera in terza media mh quindi come un momento finalizzato a una scelta e il singolare qui non è casuale e che eh spessissimo eh era un momento prevalentemente informativo cioè quindi un momento in cui si reperivano delle informazioni di contesto in particolare le scuole eccetera e dove diciamolo ma ovviamente intervenite eh quando volete il momento era molto diretto dagli adulti verso gli studenti cioè io ti fornisco le informazioni e e poi in qualche modo diciamo così te fai una scelta anche se poi sappiamo benissimo che la scelta eh è influenzata eh o era influenzata dal consiglio naturalmente dalle famiglie eh diciamocelo anche dalla provenienza socio-economico culturale in alcuni casi anche dalla dal territorio no quindi la scuola più vicina e eccetera eccetera eh ormai l'orientamento non è più inteso come un momento non è più inteso come qualcosa di etero diretto cioè quindi dove esiste un esperto sia esso l'insegnante sia esso lo psicologo sia esso l'orientatore sia esso il prete sia esso il re scusate ma sto facendo davvero la preistoria dell'orientamento no? Eh ma è un processo è un processo dove al centro sta la persona o le persone diciamo quindi gli studenti è un processo che serve durante tutto l'arco della vita perché perché nel tipo di società che noi abitiamo e che noi e loro abiteranno abiteremo e non si non si parla più di una scelta no? Cioè un tempo i vivi nelle vite delle persone erano pochi intanto le vite erano più brevi e e erano anche molto più statiche no? Banalmente genere nascevi donna cento anni fa diciamo eh non voglio tenermi troppo recente ma cento anni fa non è che tu avessi mille opzioni di fronte no? Oppure nascevi eh contadino piuttosto che avvocato e chiaramente questo già ti direzionava in una in un comparto così diciamo eh sociale quindi le scelte erano poche se pensate anche i percorsi professionali erano estremamente più statici no? Cioè qual era un po' il destino delle persone eh passare quindi appunto eh nella scelta scolastica no? C'era l'avviamento professionale o il liceo no? Pensate anche a come eh le scuole già eh prevedevano dei limiti no? Se tu non facevi il liceo non avresti potuto fare l'università cosa che oggi per esempio anche questo non è più così e poi dopo nel momento in cui tu entravi in quello che veniva chiamato il posto di lavoro generalmente ci restavi fino alla pensione e generalmente poi la pensione eh coincideva ditemi se siete d'accordo anche insomma poco ricordi diciamo dei genitori barra nonni no coincideva con sostanzialmente poi l'inizio dell'inattività no? Cioè le persone andavano in pensione poi eh diciamo così eh perdevano per lo più un ruolo attivo eh oggi tante cose non sono più così allora intanto per motivi democratici si cerca di contrastare la predestinazione socio economica no? E quindi è chiaramente eh no è compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli e quindi indipendentemente dal contesto di provenienza tu dovresti avere almeno l'opportunità di poter fare tutta una serie di scelte. Sussiste per fortuna sempre meno anche se ci dobbiamo lavorare ancora la questione di genere le donne come gli uomini eh lavorano fanno carriere fanno più attività eccetera ma soprattutto i percorsi professionali sono estremamente molto più articolati si transita da una professione all'altra le professioni cambiano continuamente alcuni dati che forse conoscete o forse no si stima che il sessantacinque per cento dei vostri studenti io spesso con i genitori faccio questo gioco sessantacinque per cento dei vostri studenti vuol dire domattina quando sono in classe ne fate alzare più della metà eh li guardate bene in faccia che non conosciamo ancora il nome perché chiaramente i lavori cambiano continuamente no io dico sempre qualcuno di voi quindici anni fa conosceva un pilota di droni eppure un lavoro quindici anni fa ora io sto sempre larga dico quindici ma forse avrei potuto dire anche dieci qui danno in Toscana oppure pensavamo che youtuber potesse essere una professione eppure lo è a tutti gli effetti ci può piacere non ci può piacere ma ci sono persone che di questo vivono quindi eh il sessantacinque per cento dei vostri ragazzi farà un lavoro di cui non conosciamo il nome quindi considerate tutti questi elementi l'orientamento non può più essere un momento informativo ma deve essere un processo durante tutto l'arco della vita che metta in condizioni le persone di avere delle competenze quindi le devono avere loro non le devono affidare allo psicologo all'orientatore lo dico contro il mio interesse essendo un'orientatrice però eh avere delle competenze per poter durante tutto l'arco della propria vita fare delle scelte consapevoli e così riprendo il primissimo intervento che si era concentrato su questo concetto di consapevolezza quindi eh l'orientamento a un percorso di educazione eh durante tutto l'arco della vita e quindi nel nostro caso possiamo dire durante tutto l'arco del percorso scolastico eh un percorso di eh educazione a eh una più profonda conoscenza di sé e adesso sto eh preparando le le slide che forse dovreste vedere e in particolare ora scusate ma vado un pochino veloce eh poi insomma magari in altri momenti sarà occasione di riapprofondire no? Eh le dimensioni eh che fanno sì che una persona si possa orientare in modo complesso non sono solo quella che appunto a volte noi riduciamo la parola conoscenza di sé no? Tutti abbiamo fatto a scuola il tema parla di te no? Però cosa vuol dire conoscersi no? Allora conoscersi vuol dire avere consapevolezza dei propri interessi cioè delle cose che ci piacciono attenzione scolastiche ma anche extrascolastiche eh avere consapevolezza dei propri valori che non sono la stessa cosa degli interessi gli interessi te tendono a cambiare nel tempo eh i valori eh sono parte profonda della nostra identità anche culturale e sono sostanzialmente i motivi per cui noi io dico semplificandoci alziamo la mattina attenzione perché anche noi adulti spesso non siamo consapevoli di quanti possano essere i valori eh che poi vengono chiamati valori professionali ma possiamo anche dire personali faccio un esempio sui valori eh i valori possono essere di tantissimo tipo no? Eh per esempio c'è chi dice per me al primo posto c'è la famiglia allora pensate a una scelta lavorativa no? Una persona che dice per me al primo posto c'è la famiglia eh probabilmente eh farà ricadere le sue scelte professionali su qualcosa che sia conciliabile anche con un tempo di vita per la famiglia una persona che dice per me al primo posto è la fama è una persona che farà delle scelte che eh gli diano una notorietà al di là di quelli che potranno essere appunto i sacrifici e attenzione non necessariamente legati a una remunerazione diversa una persona che ti dice per me al primo posto è il denaro allora io posso eh fare un lavoro dove guadagno un sacco di denaro ma dove non non ho notorietà non sono la stessa cosa oppure qualcuno potrebbe dire per me al primo posto è la sicurezza quindi le persone che scelgono di fare dei lavori eh molto rutinari eh che si svolgono in ambienti molto confortevoli faccio spesso la battuta ecco gli insegnanti probabilmente non hanno questo al primo posto perché sì è vero che è un posto di lavoro sicuro nel senso che insomma è stabile però le condizioni in cui si lavorano gli ambienti eh le le classi che cambiano continuamente i ragazzi che cambiano continuamente non sono esattamente quello che immaginiamo come posto di lavoro eh dove c'è una routine un comfort una sicurezza molto molto eh così stabile qualcuno potrebbe avere al primo posto il rapporto con la natura e quindi scegliere di andare a fare un lavoro che lo porta all'aperto eccetera eccetera voi direte ma perché stiamo parlando di questo ve lo dico per tre motivi il primo perché eh portare un po' di consapevolezza sui propri valori è molto importante per mettere meglio a fuoco la propria identità il e per fare scelte più coerenti il secondo è perché noi adulti in educatori insegnanti dovremmo avere un minimo di consapevolezza di quanti tipi di valori possano esistere e lavorare tantissimo sul non avere introiettata una nostra personale gerarchia intendo dire che anche se forse vi sembrerà strano non lo so parliamone non esiste una gerarchia tra valori non ci sono i valori più belli e i valori più brutti i valori più buoni e i valori più cattivi ma noi dentro se lo abbiamo e indovinate un po' quella gerarchia dipende dai nostri valori mi spiego meglio io faccio sempre la battuta se siamo qui noi oggi a parlare di questo probabilmente il denaro non è tra i valori di nessuno di noi eh eh altrimenti penso avremmo fatto tutti altre scelte di lavoro no non voglio dire che non abbiamo uno stipendio ma sicuramente queste professioni nel nostro paese non sono tra le più pagate cosa significa significa che per esempio per me il denaro non è un valore io però devo stare molto attenta a giudicare chi invece ha questo come valore perché ha pieno diritto alla mia accoglienza anche se è una persona molto diversa da me non so se sto riuscendo a spiegarmi eh e quindi questa è una cosa su cui dobbiamo lavorare il terzo motivo è per cui dobbiamo essere un po' consapevoli di quali sono i valori è perché a parità di professione a parità di scelta professionale può corrispondere un valore molto diverso io faccio sempre l'esempio dello psicologo uno dice io voglio fare lo psicologo benissimo la psicologa benissimo che tipo di psicologo o psicologa vuoi fare perché esistono gli psicologi di strada di quartiere esistono gli psicologi che vanno in tv esistono gli psicologi che lavorano nelle carceri con le donne detenute cosa vi sto dicendo vi sto dicendo che il titolo professionale è lo stesso ma siamo certi che il valore sia lo stesso è chiaro che lo psicologo che sceglie di andare a fare lo psicologo blasonato accreditato in tv ha un altro tipo di valore rispetto a quello che sceglie di andare nelle piazze nelle strade è meglio uno è meglio l'altro assolutamente no sono però due identità individuali e professionali molto diverse dopodiché non finiamo quei valori ma poi ci sono le cose che so fare le conoscenze i miei punti di forza le mie esperienze le attitudini attenzione alle attitudini per anni e tuttora tuttora lo sentiamo dire si è fatto coincidere l'orientamento con l'attitudine tant'è che ci sono state correnti no che si chiamavano anche proprio eh attitudinali cos'è l'attitudine detto in parole semplici no l'attitudine è una sorta di disposizione naturale una sorta di inclinazione naturale detta in altri termini non proprio esatti ma per capirsi potrebbero essere i piccoli grandi talenti no eh naturali diciamo così allora non è che le attitudini non esistano certo che esistono ma le attitudini non devono diventare dei vincoli esempio io dico sempre ma se io sono intonata non posso fare l'infermiere a cantare sotto la doccia ora ho fatto un esempio un po' stupidino ma per intenderci non è che io devo essere obbligato a fare quello per cui sono naturalmente portato quello per cui io sono naturalmente portato io scelgo di farlo se corrisponde anche ai miei interessi ai miei valori ma se non corrisponde ai miei interessi ai miei valori io posso avere l'attitudine a fare una cosa a fare delle cose ma poi scegliere scegliere di volerne imparare fare anche altre non so se sto riuscendo a spiegarmi ora tra pochi minuti mi fermo così e magari vi do la possibilità di parlare dopodiché non è finita le dimensioni dell'orientamento sono ancora altre sono come affronto le cose cosa penso eh della mia capacità di incidere sulle cose che mi accadono esempio ho preso quattro all'interrogazione eh sì perché la musso ce l'ha con me ok allora la persona che ti dice ho preso quattro all'interrogazione perché la musso ce l'ha con me è una persona che ha un senso di attribuzione esterno cioè che pensa eh che di non avere un controllo diretto sulle cose che gli accadono e che quindi le cose che accadono dipendano dagli altri attenzione che io ho fatto l'esempio al negativo ma vale anche al positivo ho preso otto è perché i lacaneschi alla caneschi gli sto simpatica oppure perché la caneschi è buona ok qual è il problema di tutto questo il problema di tutto questo è che se abbiamo un senso di attribuzione fortemente esternalizzato tendiamo a eh impegnarci ingaggiarci molto di meno sulle nostre azioni sulle nostre scelte e questo nella nostra società non è sostenibile anche perché se a scuola a scuola ancora diciamo più o meno fra simpatia e antipatia te la puoi cavare poi fuori come sappiamo il mondo è è diverso inoltre da questo dipende il mio senso di auto efficacia cioè pensare che l'interrogazione è andata bene perché io mi sono impegnato e ho studiato eh o o al contrario pensare che è andata male semplicemente perché non mi sono impegnato e quindi magari se mi impegnassi potrebbe andare bene fa sì che io migliori poi anche la mia autostima la mia motivazione eccetera eccetera ancora per concludere eh hanno a che fare con le dimensioni del sé eh il rapporto con l'affettività il rapporto col corpo le varie modalità di scelta con cui si entra in contatto in contatto la capacità prospettica quindi di operativizzare anche un pensiero al futuro una progettazione una progettualità e poi anche quello su cui si è lavorato sempre e soltanto cioè la capacità di reperire informazioni e conoscere il contesto quindi eh riepilogando per la domanda eh che che è stata fatta prima eh per orientamento no eh intendiamo intendiamo questo intendiamo un processo eh che miri a eh trasferire delle competenze di autoorientamento e in modo tale che i soggetti poi siano capaci di autoorientarsi per per rispondere quindi a un bisogno di controllo sulla realtà e quindi in qualche modo per eh conquistare una sorta di empowerment una sorta di padronanza padroneggiamento eh della propria della propria vita eh professionale personale eccetera eccetera e quindi è una teoria di orientamento come educazione continua non a caso io vi parlavo anche del eh nuovo decreto perché nel nuovo decreto per chi di voi lo avesse scorso eh ora qui l'avevo ecco l'avevo riassunto brevemente no si parla intanto di orientamento in verticale quindi come mai si parla di iniziare dalla scuola dell'infanzia fino alle secondarie di secondo grado eh perché chiaramente si 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 parla a questo punto di processo che è un processo di apprendimento di formazione che è permanente e che è destinato queste parole sono proprio prese dal decreto ad accompagnare un intero progetto di vita alla finalità della contrasto alla dispersione scolastica perché io se capisco che la scuola serve a me ci sto eh più volentieri dentro e poi appunto allo scopo di consentire scelte consapevoli eh che in qualche modo eh valorizzino eh le studentesse e gli studenti con tutte le varie potenzialità di cui sono portatrici e portatori quindi ora ho fatto la risposta ho dato la risposta intanto una primissima risposta un pezzettino di lezione frontale così ragioniamo anche su le modalità didattiche cosa abbiamo fatto no siamo partiti con degli attivatori siamo partiti con una socializzazione in assenza di giudizio dove ciascuno ha potuto esprimere vissuti saperi pregressi pensieri domande abbiamo inserito un un pezzettino di lezione frontale e ora magari riprendiamo un attimino il lavoro sulle storie e poi ritorniamo eh alla parte più formalizzata quindi la domanda era ok abbiamo ascoltato quattro storie indubbiamente tutte e quattro per motivi diversi erano adatte ad attivare degli apprendimenti didattici avevano anche qualcosa di orientante di orientativo queste storie e se sì cosa perché forse la ricerca di un percorso nel senso non orientavano ma davano tutta l'idea di un percorso diverso da seguire lasciandolo nel vago grazie stefano indubbiamente soprattutto nell'atlante no anche proprio da proprio l'immagine grafica c'è proprio quest'idea di una mappa di un percorso un percorso che puoi costruire che puoi esplorare in direzioni varie e poi eh come mi pare abbia detto eh non te lo davano così cotto e mangiato ma te lo facevano in qualche modo intuire ti facevano intuire la possibilità di una co-costruzione di di questo percorso grazie ehm per facilitarvi vi ridico che nelle vostre risposte potete essere anche più terra terra eh immaginatevi anche un po' bambini bambine ragazzi ragazzi non cercate la risposta proprio confezionata ma date anche pure una risposta molto puntuale su una cosa no? Delle quattro storie che abbiamo letto queste storie cosa potevano insegnare a livello di apprendimenti qualcosa l'avete detto secondo me non tutto ma insomma poi semmai aggiungo qualcosa io e cosa potevano invece aiutare a lavorare su quelle dimensioni che abbiamo visto prima no? Quindi la conoscenza di interessi i valori le scelte l'immaginazione eccetera eccetera eh se te lo dico proprio come come la penso eh diciamo attraverso la lettura trovare sviluppare delle competenze trovare del eh degli spunti per sviluppare delle competenze tipo se propongo un albo illustrato potrei sviluppare delle competenze artistiche diciamo ehm in quel in quel campo lì oppure se leggo un libro diciamo di numeri numerologie insomma che certo certamente orienterà il bambino verso ad avvicinarlo alla le competenze logico matematiche no? A scoprire questo mondo e insomma a coltivarlo a suscitare il suo interesse verso questa parte di competenza insomma eh tipo se leggessi un libro di ehm ehm dove si può parlare di musica eh di personaggi che si avvicinano agli strumenti musicali si potrebbe sviluppare degli interessi verso quella quella competenza insomma a stimolare i talenti un po' che hanno dentro i ragazzi magari eh dagli un input che poi magari loro possono coltivare dentro e tirare fuori. Grazie Lucia. Allora intanto grazie per la generosità per aver parlato più volte eccetera eccetera eh sicuramente sì c'è c'è un discorso di competenze c'è un discorso di 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 contenuti no? Quindi chiaramente guardiamo un altro sì c'è qualcuno vuol parlare? Problemi di linea. Problemi di linea? Miei? Non mi sentite bene? No mi sentite? Mi sentite? Sì sì io sentite bene. Ok perfetto. Eh sì c'è questo discorso di contenuti che competenze di cui parlava Lucia ma io provo a a a ridirlo no? Eh fare didattica orientativa e poi dopo riguardiamo anche le slide vuol dire utilizzare i contenuti della propria disciplina gli obiettivi di apprendimento della propria disciplina delle proprie discipline eh per incidere anche su quelle dimensioni che abbiamo visto prima cioè quindi mentre io mi avvicino ai numeri mi avvicino alle situazioni problematiche mi avvicino alle immagini all'arte mi avvicino alle parole alla scrittura alla comprensione del testo alle forme del testo eh mi avvicino alla storia mi avvicino all'educazione civica eh alla geografia eccetera eccetera attraverso una serie di strategie io però nel fare questo mi porto a casa non solo il fatto comparato che esistono i numeri primi il fatto comparato la di il concetto di infinito che sono infinite anche le sue parti il fatto comparato come si scrivono le letterine ehm ho imparato quanti tipi di mappe possono esistere ma io torno a casa e dico caspita oggi durante la lezione di scienze ho capito che quel giorno quando ero alle medie e dissi quella cosa a quel mio amico è stata proprio una cosa importante è stato un momento della mia vita che non dimenticherò mai ora ho fatto un un esempio tempino eh oppure ne faccio un altro eh oggi quando a scuola abbiamo lavorato sulla forma epistolare e abbiamo lavorato sull'educazione civica su eh i insomma i diritti degli studenti eccetera eccetera ho capito che il momento in cui sono cambiato e sono diventato più grande è stato proprio durante il primo lockdown eh perché mi sono trovato solo a casa con la mia sorellina e l'ho aiutata a fare compiti non era mai successo che io che ero sempre l'adolescente di casa che se ne fregava di tutto da lì ho cominciato a prendermi delle responsabilità ora vi ho fatto davvero due piccolissimi esempi ma per proprio per portarvi sul concreto no questa è la didattica orientativa e però attenzione come tutte le cose didattiche che funzionano non è a parole come l'ho detta io io ora l'ho detto a parole però prevede che ci sia stata un'attività no cioè abbiamo lavorato sui numeri abbiamo lavorato sui diritti abbiamo lavorato sulle lettere sulle immagini sulla forma epistolare e in qualche modo io ho visualizzato visualizzo attraverso la domanda che l'insegnante ha scritto alla LIM piuttosto il compito che ci ha dato eccetera questa riflessione che ora io vi ho fatto a voce allora dice Sabrina esatto esattamente Sabrina è proprio questo no in generale tutte le storie hanno questa capacità hanno la capacità di far riflettere gli alunni però attenzione attenzione che questa cosa che a noi sembra facile che a noi sembra ovvia che a noi sembra spontanea per molti dei nostri studenti non è non è così accessibile poiché non hanno sviluppato ancora un pieno rapporto se volete di fiducia o anche di competenza nei confronti delle storie non sempre loro quando ascoltano una storia immediatamente la fanno propria e ci riflettono sopra per questo hanno bisogno di attività strutturate cioè hanno bisogno di eh piccoli ganci che però attenzione e qui inserisco un altro elemento di complessità quando si lavora sull'orientamento noi stiamo dicendo didattica orientativa no vuol dire che io tengo insieme la didattica e l'orientamento tengo insieme la disciplina e le dimensioni del sé allora quando io lavoro sulla didattica orientativa io dovrei stare molto attenta a ricordarmi che in tutte le attività che riguardano la didattica io posso adoperare la mia per esempio tipica valutazione no cioè abbiamo abbiamo ascoltato murdo mettiamo che siamo in prima dai non voglio stare alla scuola dell'infanzia anche se mi piace tantissimo ma eh in questo momento l'esempio mi calza meglio in prima primaria siamo in prima primaria mh abbiamo letto murdo e abbiamo visto che anche questo Ieti usa le letterine eh eh dell'alfabeto in stampatello maiuscolo allora le scriviamo tutte alla lavagna no e e poi ciascuno prende quelle che compongono il suo nome oppure se preferite prende quelle che compongono il nome del proprio migliore amico della propria migliore amica del loro personaggio preferito eccetera eccetera dopodiché eh poi maestre aiutatemi eh ora io sto un po' inventando però dopodiché ognuno scrive in stampatello maiuscolo queste lettere che devono comporre questo nome quindi se io mi chiamo Martina scriverò chiaramente Martina mh allora fin qui voi ditemi dove non siete d'accordo eh ora ho scritto Martina l'ho scritto malissimo ma insomma fin qui è didattica ok vuol dire che se io invece di Martina avrò scritto Martina mh so benissimo che nessuno di voi mi farà niente di che ma voi potete annotare chiaramente che come dire ancora non ho pienamente acquisito eh questa abilità e fin qui non ci piove mh la parte orientativa attenzione io sto facendo l'esempio sulla prima primaria ma se riusciamo a traslare si può fare al liceo eh non questo ovviamente ma il concetto è lo stesso la parte orientativa si può esplicare in due modi a me ne vengono in mente due ma probabilmente ce ne sono dieci i due modi sono uno decidere che invece del mio nome scrivo davvero il nome della persona per me più importante perché è orientativo? Eh perché io non sto solo scrivendo delle lettere io sto dicendo a me stesso alla mia maestra e a tutti i miei compagni di classe chi è la persona importante per me e nel dire questo intanto lo sto pensando lo sto scegliendo nel dire questo io inevitabilmente sto dicendo un pezzetto di me poi va bene in prima sarà prevalentemente la mamma ma non è mica detto potrebbe essere davvero l'amico il giocatore il nonno che magari è scomparso da poco cioè vengono fuori dei pezzetti di vita che io comincio a significare questa è la prima parte orientativa ma ce ne potrebbe essere un'altra anche che è questa mettiamo che io abbia scritto il mio nome o quello del mio nonno è uguale si può fare il gioco che fa murdo a questo punto trasforma le lettere in immagini simboli che in qualche modo ti rappresentino quindi per esempio io nella M ci posso fare le montagne innevate perché a me piace sciare nella I ci posso fare un bellissimo lecca lecca perché sono golossa nella A ci posso fare una casetta perché per me eh casa mia è la cosa più bella del mondo ora scusate al solito esempio terribile ma ci siamo capiti importante dire ai bimbi che non deve essere il disegno bello ma che deve essere qualcosa che ti rappresenti cioè io ho fatto le montagne perché a me mi piace davvero sciare se invece di sciare mi piaceva eh andare sulle moto da cross la M diventava un percorso di moto da cross ok allora però sulla valutazione mi premeva dire che mentre la prima parte didattica io la valuto io valuto posso dire benissimo ma ancora non è pienamente acquisito perché manca una lettera la parte orientativa non si valuta cioè il bimbo che sceglie la mamma piuttosto che il babbo piuttosto che il fratello piuttosto che il supereroe ogni scelta ha parità di diritto il bimbo che mi fa il disegno e magari me lo fa come si dice a Pisa ma forse anche da voi spreciso no in quel caso l'obiettivo non è il disegno in quel caso l'obiettivo era parlare di sé era raccontarsi il bimbo che mi dice che nella per dire N ci ha visto il mare voi direte ma a me nella N non ce lo vedo il mare ma se lui ce l'ha visto in questo momento a noi interessa che lui tiri fuori se non ci interessa se a noi la N non ci ricorda il mare ecco non so se sto riuscita a spiegarmi quindi la didattica orientativa è questo è tenere insieme aspetti disciplinari con aspetti legati al sé ricordandoci di non essere buonisti quindi gli aspetti didattici sono didattici e si valutano e si trattano come tali come siete abituati a fare e non è questo l'oggetto del nostro corso gli aspetti orientativi però bisogna stare molto attenti anche nelle modalità in cui le proponiamo e qui penso soprattutto ai più grandi perché in prima via è difficile trovare no allora bimbi oggi bisogna fare questo però bisogna stare attenti invece eh alle scuole quando sono un po' più grandi per adolescenti adolescenti che si sono già un po' come dire distaccati bisogna stare molto attenti a come veicoliamo queste proposte che non sembrino eh degli altri compiti che saranno valutati e anche qui voglio fare un esempio se no non mi spiego bene quindi eh prendiamo questa ok che non avete commentato eh cosa che mi ha stupito moltissimo perché pensavo eh che avreste commentato più di tutti questa per due motivi il primo perché era l'ultima e quindi vuol dire che come si dice state attenti perché di solito chi commenta l'ultimo è chi non è stato attento e gli è rimasta appiccicata l'ultima cosa e pensavo che commentaste questo perché era l'ultima e anche perché credevo vi a voi smuovesse un po' più corde perché questo inevitabilmente parlava di scuola comunque mettiamo che io sono alle scuole secondarie secondo me anche di secondo grado si può usare secondo me assolutamente questo testo qui eh magari in un percorso di educazione civica o anche di secondo me eh italiano eh trattando quindi per esempio il linguaggio della lettera ai vari registri eccetera eccetera eh o degli aspetti più legati ai diritti insomma va bene io leggo questa questo testo eh ci facciamo un lavoro non so di se volete appunto contestualizzazione mh della tipologia testuale eh e poi anche appunto dei riferimenti più legati al diritto eccetera eccetera e fin qui siamo sulla didattica dopodiché diciamo immagina di scriverla tu una lettera al ministro dell'istruzione a quel punto noi stiamo facendo una cosa che è didattica e orientativa perché è didattica perché tu devi scrivere una lettera e devi scriverla magari diamo anche dei degli indicatori dei riferimenti deve avere la formula di apertura la formula di chiusura ci deve essere svolto il tema cioè in un certo modo devi fare una richiesta una proposta eccetera eccetera no quindi c'è una parte didattica che io posso anche serenamente valutare proprio c'è una parte orientativa perché nel momento in cui il ragazzo la ragazza scrive la lettera al ministro sta esprimendo il suo punto di vista sulla scuola io quello non lo posso valutare se il ragazzo la ragazza in quella lettera per dire si sfoga e dice io come fa questo ragazzo qui non capisco non mi sono mai sentito accolto eccetera eccetera io non posso dire oh ma che dici Giovanni o ma che dici Maria no e quindi ecco ho fatto due esempi diversi ma il concetto è il medesimo ho riparlato un bel po' mi piacerebbe che voi commentaste o faceste delle domande e poi negli ultimi 20 minuti vi mostro un format di progettazione didattica orientativa e dei materiali gratuiti che potete utilizzare però prima vorrei sentirvi ancora un pochino intanto cerco il link dei materiali gratuiti da farvi avere scusami se intervengo per l'ultima volta tu ci proponi di orientativamente di uscire dagli stereotipi e seguire un canale alternativo diciamo per orientare un ragazzo è così ho capito bene un doppio canale è giusto giusto c'è sicuramente degli stereotipi diciamo della didattica tradizionale però poi di eh affiancando l'orientamento diciamo dare eh usare un canale alternativo è così un po' uscendo dagli stereotipi tradizionali allora diciamo così una uno slogan che si usa spesso è non insegnare le discipline ma insegnare con le discipline no quindi non c'è perché la cosa che si dice spesso è lo scopo eh detto in un'altra maniera prima abbiamo detto contrasto alla dispersione scolastica abbiamo detto empowerment abbiamo detto competenze di auto orientamento ora ve lo dico in un altro modo chi di voi insegna soprattutto alle secondarie di secondo grado ma in realtà anche prendiamo le medie io sono mamma di due bimbi ma sono sempre piccoli primaria infanzia ma lo fanno già quello della primaria lo fa già le medie poi come è andata a scuola bene cosa avete fatto niente ok quindi alla chi di voi è è anche genitore zio eccetera eccetera sa che esiste questo dialogo quotidiano come è andata a scuola bene cosa avete fatto niente ora voi che lavorate da cinque dieci venti quindici trent'anni a scuola insegnare sapere che questi escono e dicono come è andata bene meno male dicono bene però insomma se avete fatto niente uno dice ma come io ho progettato mi sono aggiornato ho fatto le fotocopie ho creato il lavoretto il cartellone e questi tornano a casa e dicono niente ora è la battuta però noi sappiamo quanto anche importante socializzare gli apprendimenti no noi sappiamo che per esempio le competenze sono tali quando sono socializzabili e socializzate esempio io faccio sempre esempio della mia collega io ho una collega che ha studiato inglese più di me però quando c'è capitato di avere dei colleghi stranieri io parlavo inglese e lei no cosa vuol dire vuol dire che di fatto però poi la competenza lei non ce l'ha no perché la competenza non è solo una conoscenza la competenza è anche si chiama no quel mix di conoscenza abilità e caratteristiche personali che tu riesci a espletare in una performance no quindi significa che io lo devo poter dire io vi devo poter dire sì io l'inglese se lo parlicchio questo ve lo devo poter dire se io tutti i giorni che vado a scuola dico non ho fatto niente in qualche modo non sto dando corpo a questi apprendimenti che sto facendo poi vabbè si potrebbe entrare tutto un discorso le famiglie che anche le famiglie non hanno non danno spazi di ascolto eccetera eccetera però l'altra cosa invece che succede alle secondarie di secondo grado ditemelo se vi succede ma prof ma se io da grande voglio fare il meccanico ma perché devo studiare storia ma prof ma se io mi voglio iscrivere a lingue ma perché devo studiare scienze ma se io voglio fare il cuoco ma perché mi devo mettere qui a fa queste cose di geografia eccetera eccetera ora sto facendo così qualche esempio ditemelo se questo vi succede allora quindi tornando all'intervento di lucia e al discorso di non insegnare le discipline ma con le discipline cioè lo scopo è che queste persone si sentano eh noi diciamo protagonisti ma dovremmo dire coautori a dire la verità eh dei propri percorsi d'apprendimento ok sì altra cosa per non essere buonisti prima abbiamo parlato della paura della matematica dell'evitamento della matematica ma non è che devono diventare tutti i matematici eh cioè il nostro obiettivo non è che diventino tutti i matematici o che diventino tutti i letterati il nostro obiettivo è che uno dica ma sì oggi ho capito che comunque i numeri voglio dire non sono mica una roba solo appunto da matematici sono una roba che tutto sommato ti serve a anche solo per dire ricordare quali sono stati i momenti importanti della tua vita oppure il lancio del calzino ora era una così era un gioco no però dire va bene cioè oggi ho capito che in fondo no alcune leggi della fisica tutto sommato entrano in contatto con me tutti i giorni questo non vuol dire che io poi da grande devo diventare un fisico una fisica però capire che non è una fissazione della prof Bernardini che mi vuole per forza insegnare questa cosa ma che questa cosa ha a che fare col mondo con la realtà e quindi in qualche modo con me allora vediamo se ci sono altri interventi almeno dai qualcosina spererei di sì intanto poi vi dico cosa vi sto mettendo in io volevo dire una cosa mi ritrovo perfettamente in quello che Martina ha detto perché io sono insegnante di sostegno alla secondaria e quindi spesso capita di essere in classe a fare supplenze chiaramente allora cerco di dare il mio contributo facendo attività che possono servire alla classe e soprattutto ai ragazzi a volte lo faccio leggendo portando gli articoli di giornale e stimolando un pochino le loro riflessioni e la loro parte critica e infatti mi era appuntata questo questo libro della lettera di un cattivo studente perché ci sono anche dei dei ragazzi che dicono tanto io non ci capisco niente tanto io non sono bravo tanto lui prende più di me o così quindi ecco lo avrei scelto proprio anche per per far capire ai ragazzi che l'insegnante non vede i ragazzi solo come un prodotto di verifiche e di risultati scolastici e quindi insomma ti ringrazio per averci condiviso questo questa lettura grazie grazie a voi grazie a voi eh se c'è qualche altro commento lo ascolto volentieri ho anche domanda perplessità quindi i miei erano input non voglio dire solo questi quattro libri ovviamente sono no l'idea era proprio cercate tutti quei contenuti che vi possano servire intanto ad introdurre una lezione efficace no perché sapete bene che è più efficace entrare con la storia di uno yeti piuttosto che con la storia di uno studente che dire ok ragazzi aprite il libro a pagina no mh che poi dopo si fa anche quello come abbiamo fatto noi con le slide eccetera eccetera e poi l'idea era cercate tutti quei contenuti tutti quei momenti tutti quegli stimoli che possano avere dei ganci con le storie di queste individualità che non siano solo altro da loro ma che in qualche modo abbiano un contatto con loro secondo la mia esperienza la maggior parte degli argomenti ha questa potenzialità però bisogna un pochino entrare in quest'ottica qui vi ho messo in chat tre link che vi consiglio di copiare e incollare perché poi naturalmente quando chiudiamo la la sessione non non li potete più recuperare e sono prevalentemente il primo per le scuole secondarie di secondo grado anche se secondo me un'occhiata può essere di interesse di tutti e è un intero percorso di didattica orientativa quindi voi ci trovate proprio le schede attività da poter fare è totalmente gratuito scaricabile gratuitamente è interessante perché è un percorso interdisciplinare di didattica orientativa in particolare è un piccolo micro percorso di didattica della ricerca che quindi coinvolge attivamente i ragazzi nel fare una ricerca e quindi ovviamente intercetta competenze linguistiche e competenze matematiche scientifico tecnologiche perché una ricerca no ha sempre a che fare con più naturalmente competenze nel caso specifico noi avevamo ehm diciamo orientato questo percorso alla ricerca fatta dai ragazzi proprio sulla scuola quindi questi ragazzi che erano tra l'altro ragazzi di un bienio di un istituto professionale di quelli tostissimi vi assicuro avevano fatto proprio una piccola ricerca sulla scuola sullo stare a scuola mi interessa dirvi che il modello che è presentato in quel volume si può applicare a qualsiasi altro argomento di ricerca per esempio in un istituto alberghiero utilizzarono lo stesso tipo di percorso per far fare ragazzi una ricerca sul vino ok perché poi tutto sommato il modo in cui si fa una ricerca non cambia al cambiare dell'oggetto della ricerca quindi volendo è uno strumento che potete usare invece il secondo link è eh per il primo ciclo quindi primaria secondaria di primo grado per l'asse linguistico e anche qui trovate proprio dei dei percorsi delle attività che si possono stampare fotocopiare eccetera eccetera che sono attività di didattica orientativa quindi che trattano alcune abilità e conoscenze linguistiche ma che lavorano anche sul sé il terzo link è sempre per il primo ciclo primaria secondaria di primo grado ma riguarda l'asse matematico quindi ci sono delle attività eh che lavorano su abilità e conoscenze matematiche ma che lavorano anche sul sé quindi intanto vi potete eh con calma poi se avrete voglia dare un'occhiata a queste cose eh io invece riprendo un momento le mie slide che poi vi faccio avere anche perché non le guarderemo tutte non ce la facciamo però per rivedere un momentino ecco quello che abbiamo fatto no? Eh quindi abbiamo abbiamo parlato delle dimensioni dell'orientamento abbiamo detto che in questo processo lo studente al centro e ne è quindi non solo protagonista ma possibilmente anche autore coautore ehm e poi abbiamo provato a iniziare a dire cosa vuol dire fare didattica orientativa eh quindi si fa didattica orientativa ogni volta che si perseguono allo stesso tempo obiettivi di natura disciplinare o trasversale eh pensiamo per esempio all'educazione civica alle competenze chiave eccetera eccetera e obiettivi di tipo orientativo e è il ruolo specifico che l'insegnante ha rispetto all'orientamento nel senso che troppo spesso si chiede agli insegnanti di diventare orientatori ma giustamente gli insegnanti padroneggiano più che altro anche le loro discipline non tanto l'orientamento di per sé e quindi eh è bene che l'insegnante utilizzi il proprio appunto insegnamento scusate la ripetizione ma anche in questa ottica sarebbe molto importante eh che a differenza di quelli che spesso invece sono gli interventi specialistici di orientamento questo tipo di lavoro non fosse episodico cioè non dovrebbe essere via sto sto mese gli faccio due ore di didattica orientativa no dovrebbe pian pianino pian pianino progressivamente essere un tipo di approccio che entra un pochino così nel proprio lavoro una riflessione da fare che oggi non abbiamo tempo anche se un pochino tra le righe lo abbiamo fatto ma se io ripenso alla mia disciplina a come io la conosco ai suoi contenuti ai suoi obiettivi alle indicazioni nazionali alle linee guide eccetera eccetera cosa ha di orientativo la mia disciplina tornando proprio anche alla sua epistemologia vi assicuro che ho eh visto degli insegnanti dare delle risposte super articolate e super belle quindi è una riflessione che vi invito se possibile a fare eh perché appunto in realtà tutte le discipline hanno moltissimo di orientativo una volta realizzato questo no cioè quindi che assolutamente io posso insegnare scienze naturali e aiutare un gruppo di ragazzi e ragazze a eh arrivare più consapevoli ai momenti della loro vita in cui vanno a fare delle scelte io non dovrei improvvisarmi in qualche modo no dire vabbè via giù oggi li oriento un po' ma dovrei provare a inquadrarmi sistematizzarmi in una cornice una cornice progettuale e quindi qui per esempio noi proponiamo un format eh che tra l'altro vi dico da Palermo in due settimane ci hanno mandato settantadue progettazioni e devo dire a che hanno svolto in classe come voi erano insegnanti di eh infanzia no infanzia no primaria secondaria di prima e secondo grado di tutte le discipline quindi davvero si può dire che è possibile e e vedrete che questo format che vedete qui ora lo troverete non troppo diverso in quei volumi che vi ho girato perché più o meno è il tipo di format che noi usiamo e quindi l'idea è quella va bene mettendo a fuoco quanto ci voglio lavorare con quale delle mie classi ci voglio lavorare perché ovviamente sarà diverso se ci lavoro con una terza con una quinta eccetera eccetera dopodiché io proprio provo a ragionare ok qual è il mio obiettivo della disciplina e e me lo ho appunto ok e l'obiettivo orientativo qual è ok e a me che attività serve per raggiungere quell'obiettivo disciplinare e quello orientativo non è detto che sia un'attività per tutte e due eh potrebbero essere anche due diverse come abbiamo fatto ad esempio prima quanto tempo mi serve cosa devo fare per mettere in campo questa attività come la valuto vi ricordate un pochino abbiamo accennato a questo discorso della valutazione però abbiamo anche detto che non dobbiamo essere buonisti no anche l'orientamento io non lo valuterò ma in qualche modo lo monitorerò lo osserverò cioè vorrò vedere se effettivamente un pochino i miei obiettivi li ho raggiunti se si sono impegnati se si sono attivati cosa ne pensano cosa dicono secondo loro a cosa è servito eccetera e poi va bene in un'ottica di anche lavoro più di rete insomma eh anche in un'ottica poi di curriculum eccetera eccetera verticale eccetera eccetera eventualmente no come anche do conto di questa attività che ho fatto e quindi in qualche modo come la documento quindi questo è un po' il nostro input cioè l'idea di provare a focalizzare ehm cosa c'è di orientativo nella mia disciplina quali sono gli obiettivi disciplinari che io voglio conseguire con una determinata attività quali obiettivi orientativi posso conseguire con la stessa attività o una correlata come li valuto come li li gestisco ecco qui c'era il discorso de del decreto e e poi quindi andando a concludere cosa significa insegnare orientando prima l'abbiamo detto con delle battute ora lo diciamo con delle formulazioni più più corrette diciamo così far sentire lo studente che è soggetto del proprio percorso di apprendimento no? Eh troppe volte io sono di formazione umanista no? Eh devo dire che eh la letteratura mi piace e tutto sommato mi piaceva anche all'epoca molto no? Però a volte mi ricordo quando eravamo a scuola che sembrava Foscolo importante no? Che per carità sì è importante ma in quel momento te hai diciassett'anni sei anche te importante no? Quindi non sto dicendo che non deve passare che Foscolo è importante però sto dicendo di ricordarci eh che anche loro sono portatori di storie no? E che lì in quel momento ci sono loro perché comunque Foscolo per quanto abbia scritto le cose bellissime ormai come dire i suoi problemi sono altri ecco invece queste ragazze e questi ragazzi ci sono ora oggi qui con noi sviluppare un continuo desiderio di sapere e quindi la decisione di imparare vi ricordate prima abbiamo parlato di motivazione auto efficacia no? Cioè se io sono incuriosito se io vedo che questa cosa mi può riguardare io allora scelgo davvero di impegnarmi creare occasione di riflessività possibilmente dinamica eh su di sé quindi a partire no come prima da dei contenuti dei vissuti delle storie eccetera ragionare su di sé e anche sul rapporto che si ha per esempio con gli altri eh consentire dei momenti in cui si apprende anche in autonomia quindi piccoli compiti autentici lavori lavori di gruppo attività concrete eccetera bilanciare l'attività formale informale come abbiamo fatto per esempio anche noi stasera promuovendo quindi una riflessione su dove si impara no? Anche l'idea quelli che ti dicono a me non interessa niente perché magari non vanno bene a scuola ma non è che carità scuola è importantissima se non saremmo qui ma magari comunque ce l'hai degli interessi fuori ci sono delle situazioni in cui te hai imparato delle cose partiamo da quelle e poi cerchiamo di riportarle dentro e soprattutto come dicevamo prima aiutare gli allievi a a dare senso a quello che fanno consentendo dei gradi di libertà e di scelta eh consapevoli che questo movimenterà un po' le nostre lezioni inevitabilmente una certa stasi che ci dà la lezione più tradizionale frontale in questo tipo di lavoro viene meno ma tanto voi lo sapete se fate un'ora o due di lezione frontale la stasi non ce l'avete comunque perché tanto voglio dire fisiologicamente no non ci stanno questi sono i materiali che vi ho condiviso no ce n'è un quarto che ora vi condivido che è un volume sempre scaricabile gratuitamente sulla sull'approccio student voice cioè dove i ragazzi riflettono attivamente proprio su cosa significa per loro la scuola detto in due parole ve lo linko perché anche qui ci sono delle attività quindi anche qui volendo potete prendere degli degli spunti eh a questo punto io avrei più o meno concluso e anche il nostro tempo direi quindi vi reperisco l'ultimo link e se avete una domandina o un commento mi fa piacere eh volete ah ecco no scusate importantissimo scusate vi devo assolutamente far compilare la firma abbiate pazienza perché altrimenti non mi risultate poi eh presenti eh allora ora vi metto l'ultimo volume che è quello che ho presentato ora e ve lo copiate poi con calma ve lo scaricate ma soprattutto vi metto la firma di oggi vi metto la firma di oggi così lo compilate questo modulo google e mentre lo compilate se avete una domanda un commento una questione volentieri io vi dico solo che in due ore ci siamo cominciati a dire delle cose eh perché è chiaro che insomma eh l'argomento volendo si si potrebbe approfondire ulteriormente sono tutti così silenziosi nel val d'arno no ci credo sì allora dico un commento io cioè delle paroline su Antonella delle paroline che ho scritto mentre ascoltavo allora ehm mi veniva eh la la frase sviluppare un pensiero competente mi veniva passare dall'abilità alla competenza mi veniva in mente ehm il primo capitolo delle degli annali ehm dove si parla di eh scuola e persona e mi veniva in mente anche ehm pensiero obliquo cioè mh quando eh per l'appunto affrontiamo eh i singoli argomenti nelle nostre discipline dobbiamo eh imparare proprio questo a fare in modo che i ragazzi ci pensino e ci pensino eh come qualcosa di reale non come qualcosa che sia eh lontano eh dalla loro realtà e dalla loro vita e mi non non forse non c'entra nulla ma mi piacerebbe raccontare un episodio ehm che mi è successo in classe con un bambino affrontando le prove invalsi quindi diciamo qualcosa forse eh di 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 freddo di non aderente alla realtà ehm eh devi comprare queste 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 cose la mamma eh ti dà queste banconote quale fra queste opzioni scegli e di solito io gli faccio scrivere il perché hanno scelto quell'opzione e un bambino ha scritto ho scelto quest'opzione perché così mi rimane più resto cioè lui ha capito che nella realtà forse se faceva un piacere alla mamma era più conveniente andare con più soldi e quindi lui il pensiero competente forse l'hava sviluppato grazie eh l'imbarsi no ma il pensiero competente sì sicuramente grazie ma guarda eh ha fatto un esempio molto interessante spesso nei problemi eh ci sono delle situazioni problemi poco realistiche poco aggiornate no poco poco vicine al senso pratico se volete anche di 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 chi poi li affronta no e quindi è un ottimo esempio mi ricordo che anche mio figlio mi fece una volta un commento su eh su un problema ma ora ora purtroppo mi sfugge ma il senso era proprio quello no cioè tipo forse era un problema sui ghiaccioli se non mi ricordo male eh c'era un numero molto alto di ghiaccioli da dividere fra molti bambini e forse mi disse qualcosa tipo ma guarda che poi i ghiaccioli si sciolgono ora non mi ricordo però no cioè davvero che eh poi questi bimbi se c'entrano dentro poi c'entrano con tutte le scarpe quindi mh insomma vanno anche accompagnati nel loro bisogno di orientarsi nel mondo quindi grazie grazie ecco non dimenticate l'ultimo link che è quello per la firma eh i materiali invece eh li se li avete incollati vi rimangono e poi ho condiviso con la mia collega le slide che penso poi ve le faccia avere eh all'indirizzo email insomma così eh ve le ritrovate anche eh buonasera per cortesia puoi reinviarmi di nuovo il link perché la connessione se sarebbe veramente pessima e lo per la firma la firma sì ti ringrazio lo rimetto in chat ok bene e per il resto appunto eh io vi ringrazio eh spero ci sia occasione di rilavorare insieme ehm chi ha firmato e non ha domande o questioni è libero libera di lasciarci perché abbiamo già superato i cinque minuti quindi abbiamo concluso insomma la la nostro incontro grazie 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 grazie